Una buona serata da Marcus, estrazione del 19 di luglio che si è appena conclusa, era l'ottava estrazione del mese, classifica integrale ancora una volta rispettata, dopo le 5 estrazioni di ritardo su tutte le ruote avevo detto che il 90 ricominciava a fare la sua corsa ed è stato così, Genova quindi sabato con il 90 in posizione, questa sera un altro 90 Firenze, ma non è finita qui vedete che il 90 comincia a farsi strada verrà, quindi è estratto più volte sulle altre ruote rimanenti, avete visto la classifica ancora una volta è stata rispettata, non è andato in posizione, non è andato in posizione ma se andiamo a vedere la colpa è mia perché l'ambata contatta ci arriva proprio nella quinta posizione e poi vedendo poi lo schema se andiamo a vedere c'era anche la quinta posizione però avevo tratto la prima e la quarta posizione per stringere le posizioni, l'avete giocato anche come strato semplice, benissimo, qualcuno di voi mi ha mandato anche un bellissimo Ambo secco 29-99, quindi queste sono le vostre aggiunte, non c'è stato il 4-5-8-90 ma c'è stato un 45 come cifra, 45 è incredibile, peccato, io mi aspettavo un 4, un 5, un 8, va bene è arrivato questo 90 su Firenze, ormai ha centrato la quinta posizione, questo 90 di Firenze, questo qui arriva diretto a Venezia, quindi se questo di Genova arriva a Bari e questo di Firenze arriva a Venezia, 1 più 1 fa 2, Venezia vedrete che dovrebbe averla meglio, arriva sì a Bari, poi andiamo a vedere un'altra cosa, se andiamo a vedere l'ambatta contata, vi faccio vedere una cosa, se riesco a trovare il programmino, eccolo qua, se andiamo a vedere poi la finfina l'ambatta contata, non è che è andata poi tanto male, perché se questo 90 a Genova a finire Bari e Venezia possono arrivare anche i due vertibili, come sapete benissimo, cosa arriva stasera su Bari e Venezia? è il 9, doppio 9 su Bari e Venezia, sto guardando anche degli altri scontrini, perché ormai vi siete ficcati nella testa l'ambatta contata, giocate sia il vertibile, il numero che arriva, il vertibile anche come Ambo e Ambetto, su Genova è arrivato il 65, se andiamo indietro è arrivato il 65 anche a Palermo, occhio perché adesso il 56 abbiamo ancora due o tre occasioni, poi la molliamo come previsione, quindi questa sera è il quarto colpo per Genova-Palermo, poi giovedì sarà il quinto colpo e sabato sarà il sesto colpo se giovedì non uscirà, però stiamo attenti, queste sono previsioni che possono dare risultati, è uscito un 56 questa sera con l'abbinamento del Palermo dato su Telegram, l'avete vinto anche quello su tutte, avete fatto quattro ambi secchi su ruote tutte, è nazionale per chi ha potuto, ovviamente c'è stato un Ambo secco a tutte, questo è il quarto colpo di gioco, ma la previsione va avanti, quindi attenzione, i due vertibile arrivano Genova e Palermo, guardate, prima su Palermo, vedete, e poi il 65 questa sera Genova, non è finita, poi guardate questo 56, non scordatevi il 56 di Firenze, questo 56 cammina, questo 56 cammina Genova e Palermo, attenzione, quindi abbiamo tre ambate contate, le somme 56 Genova, e vedrete che non tarderà nemmeno come sta facendo con il 90 su tutte le ruote, avete visto? Quindi arriva prima il 90 Genova e arriva il 90 questa sera Firenze, avete visto? Dopo l'asso di tempo dei 5 colpi di ritardo adesso recupera il 90 su tutte le altre ruote, stasera quindi cancelleremo di nuovo questa, Genova è stata cancellata, è stata sostituita da Venezia, Firenze vedremo con quale altre ruote verrà sostituita, forse Bari? Vedremo, Bari, Roma, Torino e Venezia, probabilmente metteremo Bari, vediamo, una delle altre ruote poi dovrebbe essere anche la Cagliari, però lì bisogna fare un po' di differenze, ci risentiamo, mandati gli scontrini, vedo che stanno arrivando, poi farò vedere il video con gli scontrini, tutti gli scontrini con il 90, 20 fino adesso, ci risentiamo, un abbracione da Marcus, c'è caldo da morire ragazzi, c'è da morire, c'è da schiattare, ci sentiamo dopo, vado a avermi un bel drink, a dopo, ciao ciao ciao!